E' una vittoria importantissima. Io sono contento per il gruppo, per lo staff, per tutta la società, perché se lo merita. Si merita di giocarsi fino in fondo questi play-off. Ora andiamo a Gavorrano con la stessa voglia, con la voglia di andare lì e vincere e convincere e volare a play-off. Oggi ero parecchio stanco, non per il caldo, ma perché mercoledì ero nazionale, comunque ho fatto 80 minuti e giocare a partite ravvicinate così non è semplice. Però mi sono gestito e sono arrivato anche oggi a fare 85 minuti e quindi sono soddisfatto. Rispetto a prima che magari al sessantesimo ero già crollato, ora si incomincia a prendere minuti e speriamo di usarli per i play-off. Nel futuro vedremo, vedremo cosa mi aspetta, vedremo un po'. Ora non voglio sbilanciarmi, non voglio dire nulla perché non so nulla. Io quando sono arrivato qui, l'ho detto subito, sono venuto qui per dimostrare, per trovare i minuti nelle gambe perché non mi era stata data possibilità. Io sia nella prima stagione con la spalla, sia a Empoli ritornando ho trovato pochissimo spazio e qui ho trovato una società che punta tanto sui giovani, un mister in gamba, tutto perfetto per fare bene. Certo, oggi sono contento più che me ma per la squadra perché come ho già detto prima questo gruppo si merita veramente di andare oltre e oltre sono i play-off.